. Juventus, si avvicina Lewandowski, come cambierebbe l'unici di Allegri La Juventus sta lavorando con grande assiduità sul mercato in questo momento e nella sessione estiva in corso potrebbe acquistare un attaccante di livello internazionale, dal momento che Gonzalo Higuain potrebbe partire Il centravanti argentino viene valutato tra i 55 e i 60 milioni di euro, visto che fu comprato due anni fa dal Napoli per 90 milioni di euro Con i soldi derivanti dalla possibile cessione del Pipita, la Juventus potrebbe acquistare uno dei migliori centravanti in circolazione, ovvero Robert Lewandowski Stando a quanto riporta il noto quotidiano romano Il Corriere dello Sport, infatti, l'attaccante polacco sarebbe sempre più vicino al trasferimento in bianconero Lewandowski, infatti, ha dichiarato di volere proseguire la sua carriera in un'altra squadra, dopo avere vinto tutto con il Bayern Monaco in quattro anni L'ex calciatore del Borussia Dortmund ha bisogno di nuovi stimoli e la Juventus sarebbe per lui la piazza ideale L'obiettivo primario del club bianconero è infatti la conquista della Champions League e Lewandowski ha ancora tanta fame di vittorie Ecco tutti i dettagli delle ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus Juventus, vicino il colpo Lewandowski, come cambierebbe la squadra di Allegri? Stando alle ultime notizie di mercato tra pelate, potrebbe essere Robert Lewandowski il colpo di mercato della Juventus Il Bayern Monaco valuta il calciatore 200 milioni di euro, ma la trattativa potrebbe chiudersi a 80, 90, visti gli ottimi rapporti che intercorrono tra il club bianconero e quello tedesco Da non sottovalutare l'ipotesi di uno scambio con Gonzalo Higuain, in questo caso, la Juventus garantirebbe un conguaglio economico al club tedesco Bisognerebbe poi risolvere la questione che riguarda l'ingaggio del calciatore polacco, che percepisce ben 15 milioni di euro a stagione, ovvero p del doppio di quanto guadagnano i due giocatori più pagati dalla Juventus, Higuain e Dybala Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore. Ricordiamo, comunque, che su Gonzalo Higuain è molto forte l'interesse del Chelsea, che potrebbe mettere sul piatto una cifra molto alta L'attaccante sudamericano, inoltre, è entrato nel mirino del Paris Saint-Germain, che potrebbe perdere Edinson Cavani, sul quale cè l'Atletico Madrid Ecco la probabile formazione della Juve con Lewandowski, Stgrzesni, Barzagli, Chiellini, Benadia, Aleksandro, Pjanic, Matuidi, Quadrado, Dybala, Lewandowski, Costa Grazie a tutti